Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Il mio più caloroso benvenuto alla professoressa Cartabia. Benvenuto, veramente bentornata Marta. Noi siamo veramente così felici ogni volta che ci fa l'immenso piacere di venire in tutte le forme possibili a questo punto a Roma 3. Roma 3 che te l'ho sempre detto è la tua casa romana, non soltanto la tua accademia romana. Dunque siamo particolarmente grata tutti di questa tua presenza. Voglio ricordare agli studenti che sono collegati che la professoressa Cartabia ha tenuto una bellissima, una splendida lezione in occasione dell'apertura dell'anno accademico di Roma 3 l'anno scorso. E vi anticipo che stiamo pubblicando quella lezione proprio nella collanina di Ateneo dedicata alle nostre lezioni magistrali. Dunque sarà, fra pochissimo sarà stampata, ma soprattutto sarà disponibile online gratuitamente per tutti presso la nostra Roma 3 Press. Dunque avrete tutti il modo di ascoltare questa lezione in cui la professoressa Cartabia ritorna su un tema a lei particolarmente caro e di immensa suggestione e di grandissima intelligenza, anche didattica, che è quella di ricorrere al teatro greco, alla letteratura classica per trovare nelle pieghe della tragedia greca i germi dell'idea moderna di giustizia. Come si forma, come si forgia l'idea di giustizia nella tragedia greca, analizzando il difficile passaggio che ha dato luogo proprio alla nostra civiltà tra un'idea di vendetta ad un'idea di giustizia. Come la vendetta trapassa nella più serena, più equilibrata, l'idea proprio dalla spada alla bilancia in qualche modo, attraverso delle figure drammatiche che sono straordinariamente familiari a Marta Cartabia. Marta Cartabia sembra, come dire, parlare a tu per tu con Antigone, con Atena, con Lerini, le conosce, le vede e da lì trae un'idea di giustizia che poi si coniuga con quello che poi la nostra civiltà apporterà, e anche nella sua evoluzione cristiana, a questa primigenia idea di forza, proprio di forza barbarica con la quale viene amministrata e poi ingestilita là. Questo è il profilo che io da letterato mi ha attratto immensamente nella figura di una così alta giurista. Questo volevo anzitutto dire e naturalmente rinnovare il mio benvenuto e poi, come dire, fare i miei complimenti a Marco Ruotolo per queste straordinarie iniziative che riesce ad animare anche in questi tempi così difficili, questa è la terza, perché Marco è stato già il protagonista di altri cicli di dialoghi, sempre incentrati sul tema della giustizia, della Costituzione, formazione, grandissima attenzione agli studenti liceali, proprio incarnando perfettamente l'idea di terza missione così come noi la capiamo e la vogliamo. Cioè proiezioni, proiezioni dei valori che noi qui coltiviamo fuori dalle mure universitari, e vuol dire nelle scuole, nelle istituzioni. Quell'idea di impegno, di formazione che si forgia nell'attenzione alla polis, alla comunità, la crescita della coscienza del cittadino. Tutto questo è al centro non soltanto dell'insegnamento del professor Ruotolo, ma di tutte queste attività che hanno qualcosa proprio di profondamente sociale, profondamente culturale. Di questo veramente, caro Marco, non smetterò di ringraziarti, ma soprattutto di avermi fatto conoscere Marta Cartabia. Grazie. Grazie, grazie al Rettore per questo suo saluto che veramente mi onora e commuove. La partecipazione alla lezione conclusiva del corso e il piacere di avere oggi Marta Cartabia qui sono due cose che messe insieme mi danno una grandissima gioia. Aspetta a me presentare ora Marta Cartabia e poi, brevemente, vorrei iniziare il nostro dialogo di erno. Marta Cartabia è presidentessa emerita della Corte Costituzionale e professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università Bocconi di Milano. Potrei proseguire lencando la sua ricchissima produzione scientifica, le altre rilevanti esperienze istituzionali che segnano il suo curriculum. Mi prendo invece la libertà, in nome della nostra lunga amicizia, cara Marta, di procedere in altro modo, per quanto forse inusuale, ricordando una cosa che non le ho mai detto. Io sono un timido, quindi magari in presenza ho difficoltà a dire le cose in pubblico, con tanti studenti presenti mi viene più facile. Alla fine dell'estate del 2011, erano i primi di settembre, parlai con Marta al telefono, proprio nel giorno della sua nomina a giudice della Corte Costituzionale. Ero a Gaeta, mi trovavo nel mio balcone, seduto, e guardavo il mare mentre ascoltavo Marta. Una giornata limpidissima, si vedevano le isole, e in particolare si vedeva la piccola Ventotene. Oggi mi chiedono una coincidenza? Forse no. Ventotene rappresenta la storia dell'Europa Unita, come gli studenti sanno, il grande sogno che trova traduzione nel noto manifesto redatto dal Tiero Spinelli e da Ernesto Rossi, insieme a Eugenio Colorni e Ursula Eichmann. Ma Ventotene è anche il luogo del confino, e nell'antigua isola di Santo Stefano si trova l'ex carcere, noto come Ergastolo di Santo Stefano, ho portato anche i miei studenti, non quelli di quest'anno purtroppo, a fare una visita all'Ergastolo di Santo Stefano. Lì nel 1930 era stato recluso Sandro Pertini e 70 anni prima Luigi Settembrini. Lì, agli inizi degli anni 50, arrivò un nuovo direttore, Eugenio Perucatti, che segnò un cambiamento radicale del modo di concepire la pena, la pena detentiva. Tutto proiettato verso l'attuazione dei principi dell'umanizzazione e della rieducazione, che, come gli studenti sanno, sono scolpiti nell'articolo 27 della Costituzione. Apertura delle celle, possibilità di incontro con i familiari, informe e luoghi che potessero consentire l'espressione di un minimo di affettività, permessi per muoversi nell'isola, per svolgere attività di lavoro, dialogo e confronto da parte del direttore con i detenuti. Perucatti fu precursore di un modo diverso di intendere la pena, e in quegli anni vigeva il regolamento del 1931 che si ispirava a principi opposti rispetto a quelli costituzionali. Perché dico questo? Perché ricordo questa immagine? Perché Ventotene, l'isola che faceva da sfondo al nostro dialogo in quella giornata bellissima, bellissima per Marta, bellissima per tutti noi, la sua nomina giudice della Corte Costituzionale, giovanissima giudice della Corte Costituzionale, dicevo, Ventotene rappresenta idealmente una parte significativa del cammino scientifico e intellettuale di Marta Cartabia. Un cammino che parte dalla tesi di laurea, intitolata, esiste una Costituzione europea con il punto interrogativo? E Luca Petromarchi ricorderà la bellissima lezione del Cardinal Ravasi sul fascino del punto interrogativo, che Marta aveva messo opportunamente in quella tesi, tesi che era stata scritta sotto la guida del suo maestro Valerio Nida, e poi un cammino che prosegue con un libro importantissimo, Principi inviolabili e integrazione europea, del 1995. Ma io di questo libro ho l'edizione provvisoria, credo che nemmeno Marta l'abbia più. Si intitolava, la faccio vedere, non so se si vede, Principi fondamentali e integrazione europea. Era l'esito di una ricerca che Marta aveva svolto principalmente presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, sotto la guida del suo altro grande maestro, Joseph Weiler, che l'altro giorno, tra l'altro, nella cerimonia di consegna del dottorato Noris Causa, ha speso parole bellissime per Marta e parole giustissime, non solo bellissime, che la descrivono perfettamente. E questo cammino scientifico si sviluppa poi con una costante attività di ricerca e di studio presso diversi atenei stranieri, non solo europei. Ma perché Ventotene, ancora Ventotene? Perché a Ventotene guarda idealmente anche il più recente impegno, non solo scientifico, che Marta Cartabia porta avanti sui temi della pena e del carcere, tradotto in un'attiva partecipazione al viaggio nelle carceri della Corte Costituzionale, al quale ha partecipato anche come Presidente della Corte, e nella riflessione sulla giustizia come ricomposizione. Da ultima tradotta, e faccio vedere anche questo, in un meraviglioso volumetto, intitolato Un'altra storia inizia qui, scritto con il comune amico Adolfo Ceretti, e dedicato al pensiero coraggioso e lungimirante di Carlo Maria Martini. Potrei dire tante altre cose sulla produzione scientifica della professoressa Cartabia, che non si esaurisce ovviamente sui temi dell'integrazione europea e della pena, ma la mia inusuale presentazione perderebbe il suo tratto. E allora voglio dire un'ultima cosa, sulla Cartabia giurice costituzionale, e poi Presidente della Corte Costituzionale. La professoressa Cartabia ha lasciato il segno alla Corte, con le sentenze dell'Ereedatte, ne cito una per tutte, la sentenza 10 del 2015 sulla Robin Tax, sulla quale ci siamo molto soffermati a lezione, e con la sua presidenza, svolta in larga parte in una fase difficilissima, durante l'emergenza sanitaria, eppure contraddistinta, in questa fase così difficile, da una profonda apertura dell'istituzione, e la Corte verso la società, anche dal punto di vista del processo costituzionale. All'inizio del 2020, con Marta Cartabia Presidente, sono state modificate le norme integrative del giudizio della Corte, introducendo l'Istituto della Microscurie, ampliando la possibilità dell'intervento nel processo costituzionale, riconoscendo la possibilità di audire esperti. Una giudice e una presidente autorevole, che nonostante la gravosità e la rilevanza oggettiva dell'incarico, è riuscita a rimanere se stessa. Può apparire questo un aspetto secondario, ma per me non lo è. È un aspetto che segna l'esperienza umana, e in conseguenza anche scientifica e istituzionale, della professoressa Cartabia. Posso dire che la professoressa, la giudice, la presidente Cartabia, è sempre rimasta la Marta che conoscevo, capace di coltivare relazioni umane nel segno della fiducia e dell'interesse all'ascolto dell'altro. Questo è un tratto inconfondibile della sua personalità. E credo che questa sia la sua forza, persino la ragione di un successo istituzionale non cercato, ma raggiunto, senza mai sgomitare. Fai quel che devi e accada quel che può. E io auguro a Marta che possano accadere tanti altri successi sul piano istituzionale e professionale, avendo la certezza che la professoressa, la presidentessa, saprà sempre rimanere la Marta che conosco ormai da tempo. Ho voluto fare questa inusuale presentazione e qui mi fermo, ovviamente, per dare inizio al nostro dialogo al quale tengo molto e sono sicuro dal quale i nostri studenti potranno raccogliere moltissimo, chiedendo a Marta, ponendo una prima domanda che vuole essere una sorta di premessa storica al nostro dialogo, da dove nasce il bisogno, l'esigenza di una giustizia costituzionale? Il Rettore prima ha ricordato la tragedia greca, probabilmente il rapporto tra legale e giusto. Carlo Lavagna direbbe che quelle sono embrionali prefigurazioni del giudizio moderno di costituzionalità. A lezione abbiamo sottolineato come questa storia è forse a noi più vicina, ma vorrei sentire dalla viva voce della professoressa Cartabia proprio questo, cioè partire da dove nasce il bisogno di giustizia costituzionale. E ancora grazie per aver accettato il nostro invito. Io ringrazio davvero di tutto cuore di questo invito e di queste presentazioni, della presenza stessa del Rettore. Non vi posso nascondere che le parole che sono state spese per introdurre questa conversazione mi hanno davvero emozionata, quasi un po' confusa, ed è un tranello che mi fate perché adesso usare tutte, diciamo così, le armi della razionalità e della scienza giuridica risulta più complesso sotto l'impatto di questo grandissimo, grandissima emozione che mi avete dato nel raccontare ciò che avete visto, diciamo così, nel rapporto professionale e di amicizia che si è sviluppato in questi anni con me, di cui io sono veramente onoratissima. Quando il Rettore ha detto Roma 3 è la tua casa romana, è così che la sento, è così che la sento davvero come un punto in una grande città piena di iniziative, di persone, di istituzioni, di movimento, di tante cose meravigliose, quello è un punto di riposo sicuro, un punto dove uno può essere se stesso e quindi dare il meglio di se stesso, perché poi alla fine è così. Non vado oltre perché penso che gli studenti vogliano giustamente anche entrare nel merito della nostra conversazione, ma davvero grazie di tutto cuore. siete riusciti a rendere, come dire, a restituire il calore di un incontro nonostante queste condizioni e le rigidità di questi schermi che io sto soffrendo molto, ma che voi siete riusciti a trapassare con l'intensità di quello che avete comunicato. Grazie davvero. Da dove nasce il bisogno della giustizia costituzionale? Io penso che la storia europea della giustizia costituzionale sia una storia che davvero va al cuore di queste istituzioni che sono tra le più recenti, tra le istituzioni statali. I governi esistono da sempre, i capi di Stato esistono da sempre, i giudici ancora prima, ma le corti costituzionali no, sono figlie di un tempo tutto sommato abbastanza recente e in Europa le varie ondate di giustizia costituzionale hanno avvio con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, io credo che dalla storia possiamo capire qualcosa e sempre la prospettiva storica è quella che ci illumina. La storia d'Europa nella prima metà del Novecento è stata una storia segnata dalle più spaventose e inimmaginabili forme di ingiustizia praticate a livello, in dimensione massiccia e soprattutto attraverso anche strumenti legali. Ci sono tante riflessioni sulla giustizia di tanti filosofi, tanti anche teologi, tanti pensatori, tanti intellettuali che si sono interrogati su che cosa voglia dire la giustizia, quale sia il suo significato, provare a darne definizioni. A me mi è sempre colpito il fatto che chi è andato più lealmente al fondo di questa riflessione arriva allo stesso risultato sia pur in ambiti e provenienze diverse. Prendiamo due esempi, tre. Amartya Sen, un grandissimo premio Nobel che scrive nel 2009-2010 un libro meraviglioso sull'idea di giustizia, dice non si può dare una definizione di giustizia dopo essersi impegnato per 900 pagine a misurarsi con questo tema. Si può solo partire dalla esperienza dell'ingiustizia. Non si può dare una definizione teorica dell'idea di giustizia ma si deve partire dalla esperienza dell'ingiustizia. Due correzioni di piano. non è una riflessione teoretica ma è una riflessione sull'esperienza che ci parla di questo tema e metodologica anche e un'indicazione che il concetto di giustizia è inafferrabile ma è molto ben comprensibile all'esperienza di tutti che cosa sia l'esperienza della ingiustizia. Stesse affermazioni, stesse parole si trovano in uno splendido dialogo tra Gustavo Zagrebeschi e il cardinale Martini di molti anni fa in una delle cattedre dei non credenti anche lì due personalità molto diverse stiamo parlando di uomini che hanno un background culturale totalmente diverso l'uno dall'altro ma arrivano esattamente alla stessa conclusione. Perché ho richiamato questo spunto per parlare dell'origine della giustizia costituzionale perché anche la giustizia costituzionale che è una forma recente nuova sicuramente più creativa e inimmaginabile per certi aspetti della giustizia nasce dalla grande esperienza dell'ingiustizia che in Europa si è verificata ha attraversato il continente nelle forme più inimmaginabili soprattutto nell'ambito delle esperienze dei vari totalitarismi guardate ragazzi c'è una coincidenza storica le corti costituzionali nascono nei paesi europei al crollare di forme varie di totalitarismi e di autoritarismi 47 48 nasce in Germania in Italia all'inizio degli anni 80 nella penisola iberica quando cadono il franchismo e il regime di Salazar in Portogallo nell'Europa centro e orientale all'inizio degli anni 90 con la fine dell'impero sovietico e il crollo del muro di Berlino e della cortina di ferro questi sono i momenti in cui nascono le corti costituzionali in questi ambiti europei e sempre è in coincidenza con la fine di una forma l'altra di totalitarismo quindi è evidente dal punto di vista storico che le corti costituzionali sono una risposta ai totalitarismi e anche tante discussioni che attraversano oggi l'opinione pubblica o certi studiosi circa la compatibilità del ruolo delle corti costituzionali con la varie forme di democrazia secondo me dovrebbero sempre tenere a mente questa origine storica e perché c'è questa coincidenza perché la particolarità dei totalitarismi europei a differenza di altre forme di colpi di stato per esempio in Sud America o in altre zone del mondo non sono state una presa di potere illegale fatta solo con la forza ma sono arrivati al potere i vari Mussolini Hitler Franco Salazar nel rispetto delle forme legali Mussolini per stare in casa nostra è stato nominato presidente del consiglio capo del governo dal re e ha ottenuto la finuccia del parlamento dunque che cosa diceva quel tipo di esperienza quel tipo di vicenda storica che il rispetto formale delle regole delle procedure pur necessario non è sufficiente a impedire le più grandi ingiustizie che la storia abbia mai vissuto le più grandi forme di oppressione di distruzione dell'umanità che la storia abbia mai visto in una scena così di grande scala di qui l'idea della necessità di un giudice che non deve prendere il posto delle istituzioni politiche ma deve vigilare affinché la correttezza diciamo così delle dinamiche democratiche non sia mai soltanto di facciata non sia mai soltanto di pura formalità ma abbia anche dei contenuti tali da non generare da non nascondere da non covare dentro di sé una ingiustizia rivestita di legalità è il grande dramma di quello che uno studioso tedesco aveva definito il grande dramma delle leggi ingiuste delle leggi che hanno tutta tutti i crismi sono stati adottati nel rispetto di tutte le regole previste e che pure hanno dei contenuti che non possono essere sopportati da nessun ordinamento soprattutto da nessun ordinamento democratico ecco la giustizia costituzionale è una ulteriore risposta al bisogno che l'uomo ha di reagire alle ingiustizie e dal punto di vista storico si colloca proprio lì come una forma di tentativo non sarà l'ultimo non sarà l'unico perché il bisogno di giustizia è inesauribile potrà manifestarsi in mille altri modi ma che in un determinato momento storico si è reso indispensabile proprio per evitare che il rispetto della legalità pur necessaria non sia mai semplicemente d'apparenza e non possa mai nascondere in realtà una forma di ingiustizia perpetrata attraverso le istituzioni dello Stato e il rispetto appunto delle regole del gioco questo a mio parere è la cosa più affascinante della giustizia costituzionale che sempre va tenuta presente nelle mille manifestazioni che poi si esprimono attraverso mille tecnicalità che sono necessarie allo svolgimento di quel ruolo grazie grazie molto tra l'altro questa citazione di Sen non a caso ieri quasi analoga citazione è stata fatta da Fabrizio Barca all'inizio del nostro dialogo era un dialogo sulla giustizia sociale e quello che ti vorrei chiedere guardando proprio all'oggi è in che modo la Corte può rispondere al bisogno di giustizia anche e non solo sociale ovviamente che connota la sua funzione cioè quanto conta il sostantivo giustizia nell'esercizio di questa funzione particolare che la Corte ha e direi in conseguenza visto che anche questi temi sono stati affrontati a lezione fino a che punto l'esigenza di rendere giustizia costituzionale come direbbe Gaetano Silvestri può giustificare una lettura evolutiva dei principi o delle regole del diritto processuale costituzionale la Corte costituzionale è un giudice che ha una grande peculiarità e cioè chiamata a far rispettare delle norme giuridiche che sono connotate da una struttura lessicale molto ampia sono per usare una distinzione forse nota anche agli studenti che diciamo c'è stata offerta e sistematizzata nell'epoca più recente per esempio dead working altro sono le regole altro sono i principi siamo sempre nel grande insieme nella grande famiglia delle norme giuridiche ma un conto è una regola che mi stabilisce che non posso costruire una casa senza rispettare tre metri di distanza dalla casa che ho vicino una regola precisa che può essere applicata attraverso un procedimento di tipo logico matematico che risponde possiamo dire a un esprit de geometrie per ridestare l'attenzione del nostro rettore mentre i principi quando noi dobbiamo applicare e giudicare in base a principi che hanno un contenuto così ampio come la libertà personale rispetto della dignità umana il rispetto dell'eguaglianza qui l'esprit de geometrie serve a poco porta poco lontano ci vuole veramente forse sì l'esprit de finesse e forse anche una usando invece un riferimento diciamo così di altra natura più di tipo anglosassone un tipo di ragione che sappia leggere il dato d'esperienza il dato concreto il dato sociale questo è tutto nella costituzione italiana per esempio se voi avrete studiato benissimo per esempio l'articolo 3 della costituzione che ha proprio due parti uno dice tutti uguali davanti alla legge senza distinzioni e questo sembra rispondere come dire a un criterio psicologico anche se poi nell'applicazione pratica è tutt'altro che semplice capire esattamente cosa vuol dire ma soprattutto c'è una seconda parte dell'articolo 3 della costituzione che dice non basta che io dica agli studenti siete tutti uguali siete tutti uguali sì potete partecipare tutti alle lezioni sì ma se uno non ha la stanza dove può ascoltare le lezioni non ha i device per potersi collegare eccetera questa grande uguaglianza formale di nuovo si rivela essere una sorgente di grande ingiustizia quindi serve un tipo di giudizio di ragionamento di esplorazione della realtà che vada oltre il dato formale vada a pescare nei dati di fatto nei dati di concretezza e anche per questo che la corte si è dotata con la riforma di cui a cui faceva riferimento Marco Ruotolo della possibilità di audire amici curie ma anche esperti che possano portare degli elementi fattuali su cui la corte può intervenire la corte fa questo e l'ha sempre fatto non è una novità da oggi i grandi criteri di giudizio della corte giustizia costituzionale sono principi che hanno una struttura indeterminata il grande metaprincipio nella giustizia costituzionale italiana è il giudizio di ragionevolezza delle leggi ragionevole è certamente qualcosa che non è definibile a priori di nuovo non puoi dare la definizione così come della giustizia non possiamo dire che cosa sia in termini positivi ma possiamo ben riconoscere che cosa è il ragionevole facciamo un esempio una delle ultime sentenze su cui ho messo la mia firma da presidente di cui sono veramente molto molto orgogliosa riguardava l'entità della cosiddetta pensione insomma dell'assegno che viene dato agli invalidi ai disabili agli invalidi erano entità che non raggiungevano le 500 euro allora è evidente che nessuno può dire esattamente e non spetta alla corte dire che cosa sia giusto ragionevole adeguato per il mantenimento per adempiere le previsioni dell'articolo 38 della costituzione che chiedono allo stato italiano di garantire i mezzi di sussistenza a chi non può lavorare per le sue condizioni fisiche non possiamo dire che cosa sia giusto e che cosa sia giusto nel tempo ma certamente possiamo dire che quello è fortemente ingiusto quindi la corte deve rendere giustizia costituzionale nel senso che deve immediatamente prontamente reagire di fronte a ciò che stride che non corrisponde a un canone di accettabilità rispetto ai valori costituzionali e ripeto ragazzi tante volte in questo ambito è molto più semplice è molto più comprensibile è molto più facile trovare un accordo nell'individuare che cosa non corrisponde ai principi costituzionali e questo è il compito della corte che è lì a dire no questo non va bene mentre è un'impresa probabilmente anche come dire titanica ma inarrivabile per qualunque essere umano provare a declinare in termini positivi che cosa implichi in tutte le sue sfaccettature un principio o i principi come quelli che sono della costituzione quelli sono inesauribili è come se fossero delle sorgenti che continuamente nella reazione con i dati di realtà producono nuovi significati nuove implicazioni che saranno sempre da scoprire grazie e ora quello che ti chiederei come spiegheresti oggi agli studenti la questione della legittimazione della corte nel sistema in parte lo hai detto in risposta la prima domanda però se appunto dovessi spiegare oggi in che cosa consiste dove trae alimento la legittimazione della corte che risposta daresti anche la luce dell'esperienza che hai vissuto alla corte allora la questione della legittimazione molto spesso si collega diciamo così a quelle obiezioni che si fanno e che ahimè si stanno diffondendo molto anche tra la popolazione spesso mi viene fatta questa domanda circa il fatto che questi 9 12 15 in Italia giudici delle leggi non sono stati eletti da nessuno quindi ieri eravamo in un dibattito internazionale con Rosalind Dixon una collega australiana che sta scrivendo un libro molto bello sul ruolo delle corti costituzionali e richiamavamo un'espressione di Barack Obama che giurista laureato a Yale sicuramente una persona non diciamo sospettosa circa il ruolo delle corti però diceva una frase era certo pensare di dare il potere a nove uomini o donne giuristi che nelle loro toghe nere ci spiegano che le leggi approvate dalla maggioranza non vanno bene essendo che questi nove uomini la corte suprema americana è fatta di nove non sono mai stati eletti da nessuno certo non suona molto democratico ecco la cosa che io direi è non bisogna andare a cercare una forma di legittimazione che abbia a che vedere con le procedimenti diciamo così di democrazia procedurale le corti non hanno una loro legittimazione per il fatto di essere ricoposte in modo tale da essere riconducibili a delle forme di scelta popolare ma la democrazia questo lo abbiamo imparato tutti non è solo procedura democrazia è procedura è sostanza quando insegnavo e tornerò a farlo tra breve ai miei studenti del primo anno facevo spesso una domanda e chiedevo ma secondo voi se attraverso una decisione presa a larghissima maggioranza in Parlamento magari anche confermata da un referendum popolare si decidesse di sopprimere la libertà di espressione di pensiero una decisione di questo genere sarebbe democratica pensateci ragazzi sto parlando di una scelta ampiamente condivisa non sto pensando a prepotente che arriva e decide di chiudere i giornali le televisioni social eccetera eccetera sto pensando a un popolo che decide autonomamente attraverso i suoi rappresentanti e la sua diretta pronuncia popolare di cancellare dalla Costituzione l'articolo 21 della Costituzione stessa e dire non c'è più libertà per parlare bisogna avere l'autorizzazione di polizia come c'era per esempio durante il regime fascista eccetera tutto questo è democrazia perché fare questa domanda perché la nostra concezione di democrazia è spesso attratta soltanto dal lato procedurale cioè dare il potere a chi viene eletto i suoi rappresentanti a chi comunque in qualche modo è riconducibile alle scelte della volontà popolare cosa che è importante ma è uno dei due pilastri della democrazia l'altro pilastro è fatto di alcuni pochi non si può allargarlo ma essenziali valori sostanziali tra cui per esempio la libertà di espressione il diritto di voto se io sopprimo il diritto di voto è evidente la libertà di voto è evidente che o la libertà delle formazioni politiche è evidente che posso mantenere come era accaduto appunto durante il periodo fascista il simulacro di forme elettorali ma poi nella sostanza non c'è più allora che cosa dove pesca la legittimazione la corte costituzionale non come il parlamento il governo per essere espressione della volontà popolare non c'è questo i giudici della corte costituzionale hanno una pluralità di provenienze alcuni estremamente tecnica per esempio l'elezione dei giudici che provengono dalla magistratura proprio oggi la corte di cassazione dovrebbe eleggere il nuovo giudice costituzionale che sostituisce il presidente Morelli altri sono nominati dal presidente della repubblica certo sì il presidente a sua volta è eletto dal parlamento ma insomma se vogliamo scegliere individuare la legittimazione in questa forma di riconducibilità alla volontà popolare ci sono tanti gradi di separazione tra la nomina di un giudice costituzionale nominato dal presidente e le scelte popolari altri dal parlamento c'è anche la partecipazione politica ma non è lì la legittimazione della corte è una legittimazione che sta nel fatto di essere chiamata a garantire dei contenuti dei principi dei valori mancando i quali viene meno la stessa possibilità della democrazia di sussistere quindi non c'è contraddizione tra l'andamento delle istituzioni democratiche e la presenza delle corti costituzionali ma al contrario ne sono il complemento ne sono il complemento decisamente proprio per questa nozione procedurale e sostanziale di democrazia a cui dobbiamo far riferimento infatti Frommon scriveva che la legittimazione viene dalla costituzione dall'esigenza della sua difesa e penso che avesse ragione perché guardava alla idea della democrazia come democrazia costituzionale fatta evidentemente di limiti al potere e quindi non una democrazia che si esaurisce nel momento del voto vorrei passare ora poi daremo spazio agli studenti ho ancora poche domande da porti al tema molto delicato specie oggi del rapporto corte-legislatore l'approfondimento che ti chiederei riguarda anche le tecniche decisorie cioè spiegare ai nostri studenti quali siano gli strumenti che la corte ha nel suo armamentario per così dire per fronteggiare quei casi di inerzia protratta del legislatore nell'attuazione della Costituzione quindi quei casi in cui le omissioni legislative si traducono propriamente in attuazioni costituzionali il tema delle omissioni del legislatore delle inerzie è un tema che tormenta le corti costituzionali da sempre proprio perché le corti a differenza la grande differenza tra un'istituzione di tipo governativo parlamentare diciamo politico e una corte costituzionale è la natura degli strumenti con cui agisce perché diciamo così le istituzioni politiche sono istituzioni proattive che decidono cosa fare quando farlo come farlo le corti costituzionali sono come tutti i giudici solo delle istituzioni che rispondono non possono porsi loro stessi i temi in agenda non sono loro a decidere su cosa intervenire quando intervenire devono solo rispondere a ciò che è stato richiesto e oltretutto devono rispondere non possono nemmeno evitare di rispondere quando la richiesta che viene fatta è diciamo così scomoda o particolarmente divisiva quindi c'è proprio una differenza la proattività e la se volete passività dell'atteggiamento della corte per riprendere un'espressione di un grande studioso americano Alexander Bickle è un problema di sempre è un problema anche perché le corti è come se volete immaginare ragazzi se avete un foglio bianco di word il parlamento ci scrive sopra la corte è come se dovesse soltanto lavorare con il tasto delete può soltanto togliere può cancellare intere righe può cancellare un'intera pagina magari solo una virgola un frammento ma ha in mano solo la gomma non ha la penna per scrivere questo è il modo di agire della corte costituzionale quindi se il parlamento non scrive la corte ha poco da cancellare è molto difficile per la corte rimediare alle inattuazioni oppure a quelle violazioni di principi costituzionali che derivano da mancanze da buchi nella legislazione questo è molto difficile per la corte ultimamente la corte ha provato a sperimentare traendo ispirazione tra l'altro da esperienze straniere dal Canada e dal Regno Unito una modalità di azione che auspicabilmente dovrebbe favorire diciamo così una collaborazione che fungere un po' da stimolo nei confronti del legislatore lo ha fatto la prima volta con il caso Cappato un caso che riguardava la morte assistita ha provato a farlo adesso vedremo gli esiti su un altro recente caso che riguarda le pene diciamo così detentive che il nostro ordinamento prevede per la diffamazione a mezzo stampa che cosa ha fatto la corte quanto a questi strumenti ha provato a elaborare una sorta di decisione in due fasi in cui all'esito di una prima esame di una questione che le viene sottoposta da dove la corte veda da un lato una violazione del principio costituzionale per omissione per inattuazione per mancanza di un pezzo di disciplina ma anche la necessità di un intervento che non sia soltanto di eliminazione della disciplina incostituzionale ma che richieda la costruzione di una regolazione nuova la corte ha provato a dare del tempo al parlamento con una ordinanza quindi un provvedimento interlocutorio della corte stessa che non chiude il processo ma ne costituisce solo una tappa in questa ordinanza la corte segnala quali sono i problemi di costituzionalità dando un termine al parlamento di solito un termine lungo di un anno circa per porre rimedio a quella violazione nel caso diciamo così sul fine vita nel caso cappato il parlamento ha ritenuto comunque di non intervenire non c'è stata una risposta da parte delle camere e quindi la corte costituzionale poi ha deciso con i suoi strumenti che sono appunto degli strumenti che dovete tenere presente sono sempre degli strumenti in cui la corte può soltanto eliminare togliere infatti anche quella decisione era una decisione in cui la corte individuava un'area di non punibilità nell'ambito della norma penale sul suicidio assistito che punisce il suicidio l'aiuto al suicidio quando ci sono certe condizioni la corte lì è stata molto dettagliata nel dire queste condizioni nel caso sulla diffamazione stiamo a vedere l'auspicio è che questa forma di collaborazione sia intesa e sia raccolta da parte del Parlamento perché sono proprio degli ambiti in cui da un lato la corte avverte che dovrà comunque intervenire per evitare che rimanga nell'ordinamento una violazione della Costituzione è già chiaro nell'ordinanza questo che un problema di incostituzionalità c'è tanto che qualcuno ha definito queste decisioni come delle forme di incostituzionalità annunciata perché se non ci fosse questo problema la corte potrebbe dire è puro ambito di discrezionalità del Parlamento ma dall'altro la corte avverte anche la necessità di rispettare il ruolo di creazione del nuovo tessuto normativo da parte del Parlamento e per questo cede il passo al Parlamento questa a me pare che sia l'innovazione più interessante promettente che naturalmente potrà funzionare se anche da parte del Parlamento c'è una disponibilità a raccogliere diciamo così lo spunto offerto dalla corte per usare una tua espressione se la corte ha la gomma il legislatore ha la penna però la corte ha pure la matita perché quando ci sono missioni incostituzionali che vanno colmate la corte usa la matita lasciando al legislatore la possibilità poi di riscrivere perché ho notato che soprattutto quest'ultima giurisprudenza che alcuni considerano anche eccessivamente creativa e io non sono tra questi la corte nei provvedimenti tende sempre a sottolineare nello stesso caso cappato in altre decisioni rilevanti dell'ultimo periodo che poi il legislatore ben potrà intervenire a rimodulare diversamente la pena penso alle sentenze sulla dosimetria della pena o a disciplinare quanto dalla corte integrato quindi è come se lo facesse costretta usando una matita che il legislatore può alla quale scrittura il legislatore può sovrapporre la penna poi se di nuovo la penna l'integrazione fosse incostituzionale la corte userà il suo strumento ordinario che è la gomma mi piace questa metafora sì con una precisazione se posso Marco che anche anche quelle diciamo così quei frammenti scritti a matita sono sempre dei frammenti che la corte non elabora in autonomia ma che trae da norme esistenti nell'ordinamento quando per non lasciare un vuoto legislativo che determinerebbe un profilo di incostituzionalità la corte è costretta a dare delle indicazioni per esempio in materia di dosimetria della pena o altro la corte fa sempre riferimento alle soluzioni già presenti nell'ordinamento che magari non sono le migliori magari non sono quelle diciamo così che meglio contemperano gli interessi in gioco ma che sono disponibili che sono ragionevolmente trasferibili altrove per esempio quando abbiamo fatto la sentenza sui reati in materia di droga con la scelta dei sei anni forse non era la più adeguata però era quella che l'ordinamento offriva in quel momento che il legislatore può sempre essere naturalmente è sempre libero di rimodulare nel rispetto dei principi indicati dalla corte infatti ne abbiamo parlato molto a lezione di questa parte relativa alle cosiddette rime obbligate tra l'altro rileggendo verso Crisafulli che va sempre riletto in realtà lo stesso Crisafulli quando parlava delle rime obbligate faceva riferimento a soluzioni rimunibili nel sistema quindi si è detto che sono adeguate ma in fondo in fondo non è stata secondo me nemmeno una smentita della teoria di Crisafulli forse in una decisione questo è accaduto ma lo dico da commentatore della giurisprudenza costituzionale non in quelle che sono state poi tanto criticate dalla dottrina ho ritrovato il brano di Crisafulli che secondo me all'interno del quale per esempio la sentenza in tema di droghe si può benissimo inserire è compatibile con la definizione generale di Vezio Crisafulli un'altra domanda che vorrei farti poi veramente desidero lasciare spazio agli studenti ma le domande sarebbero tantissime si legano ad argomenti che più hanno suscitato curiosità nell'ambito del corso quindi ho voluto ricavare anche dal dialogo con gli studenti di spunti per il dialogo odierno la posizione della corte nel contesto internazionale quindi il rapporto con le altre corti la situazione attuale vorrei anche dire l'uso che tra l'ora vedo fare da parte della corte del diritto comparato nella sua giurisprudenza sarebbe un altro tema però come la corte si inserisce nel contesto internazionale sempre riferita all'attualità oggi insomma ma diciamo che le premesse le premesse del rapporto tra la corte e le corti europee soprattutto comunque anche le corti internazionali sono state poste da molto molto tempo è un capitolo che è stato ha iniziato ad essere scritto negli anni 70 80 questa dimensione ultranazionale del diritto costituzionale è emerso gradualmente io direi questo che forse ciò che connota gli anni più recenti è un protagonismo da parte della corte costituzionale nell'ambito delle coordinate che già erano tracciate la corte così come per rimanere al parallelismo di quello che dicevamo prima non si fa intimidire dalla mancanza delle rime obbligate intese alla vecchia maniera e cerca di dare una risposta ai problemi che le vengono posti dove ravvisa la necessità di rimediare un vulnus alla costituzione similmente nel rapporto con le corti europee la corte quando è investita dai problemi di costituzionalità non si sottrae sono molto io sarebbe bello fare una diciamo così un'analisi sulle pronunce di inammissibilità io credo che siano molto calate e soprattutto certe ragioni di inammissibilità non quelle che riguardano l'ordinanza scritta in modo non corretto eccetera ma secondo me sono molto calate cioè la corte non reputa che sia diciamo suo compito intervenire anche le famose svolte che ci sono state nel rapporto col diritto europeo non è nient'altro che questo cioè anziché sottrarsi e rimanere ai margini quando viene investita dei problemi la corte interviene e lo fa secondo me con una voce molto interessante che è una voce molto dialogica il caso Taricco secondo me è stato veramente un caso molto ben riuscito molto costruttivo in cui si avverte tutta la presenza l'autorevolezza la rilevanza dell'intervento della corte costituzionale ma anche sempre nel rispetto assoluto del ruolo delle altre corti in particolare delle corti europee tanti hanno scritto diciamo così su questa voce suadente della corte costituzionale ma non per questo meno decisa per esempio in raffronto con gli interventi della corte tedesca stessa cornice dottrinale stessa costruzione giuridica quella dei controlimiti che ha dato luogo poi a degli esiti molto diversi se voi guardate il caso Taricco e il caso del 5 maggio quello su quantitative easing evidentemente c'è un modo di maneggiare gli strumenti giuridici molto diverso c'è un bell'articolo che è stato pubblicato anche in italiano su quaderni costituzionale scritto da Garmin von Bogdandi e Davide Paris che mettono proprio a confronto la presenza e le modalità di intervento della corte tedesca e di quella italiana che secondo me merita una lettura proprio per dire protagonisti sì ma come cioè sul come ci possono essere delle differenze lo stile italiano è uno stile che a me piace definire molto relazionale cioè tiene conto di non essere mai l'unico attore a giocare una partita è sempre sempre un gioco di squadra un gioco che coinvolge giudici nazionali le corti europee il Parlamento appunto c'è questa dimensione di relazionalità istituzionale che secondo me è da osservare con attenzione ho ritrovato il brano di Grisa Fulli che ho citato in un lavoro in corso di pubblicazione lui parlava di estensione o esplicitazione di qualcosa che e qui sono parole sue seppure allo stato latente era già compreso nel sistema normativo in vigore ora dire che alcune decisioni se non abbiano determinato il definitivo abbandono delle rime obbligate mi sembra un'affermazione eccessiva interessante molto interessante ultima per ultima domanda che si lega proprio alla tua presidenza che ha caratterizzato uno degli aspetti che ha caratterizzato la tua presidenza ricordo un comunicato stampa che era intitolato proprio la corte si apre al dialogo con la società e che preannunziava tra l'altro le novità che sono state introdotte alle quali accennavo nella presentazione riguardanti gli interventi gli amici curie e l'audizione degli esperti inserirei in questo discorso anche le iniziative dei viaggi nelle scuole nelle carceri per dare un po' la prospettiva di questa idea della corte che come ho letto in quel comunicato stampa vuole aprirsi alla società e la domanda è quanto questi elementi di apertura verso l'esterno abbiano caratterizzato la tua presidenza beh diciamo che l'apertura della corte è iniziata prima non posso certo intestarmi un andamento che è un andamento del collegio in una certa fase e che ha avuto come inizio il viaggio nelle scuole poi il viaggio nelle carceri che sono avvenute sotto la presidenza prima grossi poi lattanzi io sono stata una sostenitrice entusiasta di queste iniziative e ho speso anche molte energie in queste direzioni sono contentissima di averlo fatto purtroppo devo dire nella mia presidenza questa possibilità è stata molto condizionata dal covid quindi i viaggi in Italia si sono dovuti bruscamente interrompere ma tale era la convinzione che hanno trovato altre modalità di espressioni altre forme per esprimersi diciamo così il tentativo che mi pare abbiamo cercato di coltivare è stato quello di farci conoscere dalla gente attraverso ovviamente a quel punto durante la mia presidenza anche tanti strumenti di tipo comunicativo mediatico io non mi sono sottratta per esempio a partecipare a una richiesta della RAI di raccontare la giurisprudenza della Corte Costituzionale come la Corte ha cambiato la vita delle donne e abbiamo fatto ben sei puntate di questo genere proprio col tentativo di tradurre per un largo pubblico semplicemente far conoscere quello che c'era oppure l'iniziativa dei podcast la Corte che racconta si racconta in termini non tecnici attraverso dei brevi podcast che parlino appunto dell'attività della Corte in modo comprensibile a tutti e poi ancora la partecipazione alle trasmissioni ai maestri in cui parliamo non solo della Corte ma della Costituzione l'attenzione ai comunicati stampa io spero che questa attività continui e che la Corte comprenda il valore del parlare alla gente comune perché l'attività della Corte incide cambia la vita della gente comune quindi tu mi chiedevi prima anche della legittimazione certamente la legittimazione dipende dalla Costituzione dal garantire i valori della Costituzione però c'è un'esigenza diciamo così se non di legittimazione di mantenere la fiducia e il rispetto l'autorevolezza delle istituzioni che secondo me passa anche attraverso questa comprensibilità trasparenza possibilità di conoscere conoscere i volti di chi dietro quelle toghe nere oscure tutte uguali chi sono le persone che poi stanno assumendo le decisioni io credo che questo sia un dovere molto molto sentito da parte della gente credo che la Corte abbia mosso dei passi importanti in questa direzione tutto a un prezzo perché poi se ti fai conoscere la gente ti conosce e quindi in qualche modo sei riconoscibile sei criticabile e questo fa parte però secondo me un po' della responsabilità che certe cariche comportano molto bene mi collego con l'ultima domanda poi pregando gli studenti senza imbarazzi rivolgere le loro domande alla professoressa Cartabia che sono qui disposto a leggere la chat ma come abbiamo fatto ieri se prendete possesso del microfono della telecamera e ponete direttamente la domanda è anche meglio la domanda finale che si lega in qualche modo a quanto ho appena ascoltato riguarda proprio la nostra particolare posizione la tua particolare posizione di professore universitario cosa significa per un professore universitario in particolare per un costituzionalista aver vissuto l'esperienza di giudice prima e poi di presidente della corte costituzionale beh diciamo in un certo senso i giudici professori soprattutto di diritto costituzionale sono quelli che più hanno soddisfazione anche nel sedere in un consesso di questo genere perché tutto quello che tu studi può diventare parte dell'ordinamento e obiettivamente è così cioè ci sono il frutto di tante riflessioni di tanti libri scritti di tanti approfondimenti svolti come professore magari compaiono e sono condensate in una riga di una sentenza ma hanno un'incidenza una capacità di trasformare la realtà di diventare parte proprio del sistema che neanche un'intera enciclopedia potrebbe riuscire a fare quindi c'è questa grande opportunità che viene data di mettere alla prova la tenuta di certe teorie alla prova appunto della possibilità di trasformarla in realtà viva dell'ordinamento ma devo anche dire che c'è qualche cosa che un professore apprende nel momento in cui si trova al lato della decisione non soltanto nello scrivere il commento alla decisione ed è guardare le questioni dal lato problematico come guardare diciamo così un ricamo dal dietro quando ci sono tutti i nodi che devi trovare cercare di capire da che parte va il filo secondo me questa è una grandissima lezione è una ricchezza che io mi porto via come giudice dopo essere stata giudice della Corte Costituzionale perché è diverso prendere diciamo così una legge criticarla vederne i limiti vedere gli effetti magari negativi che ha spaccare il capello in quattro la non totale coerenza con i sacri principi teorici eccetera e dover invece decidere cos'è la cosa la grande differenza che c'è è che tu non parti dalle risposte ma sei costretto a vedere l'enigma quando le risposte ancora non sono sul tavolo uno scrittore che a me piace tanto questa volta non è francese ma è di origine inglese Chesterton dice che nell'epoca contemporanea il più grande problema non è il non saper dare le risposte anche degli scienziati ma non sapersi porre le domande giuste non saper vedere l'enigma ecco io credo che la grande salto di maturità che un professore può fare in un passaggio di tipo istituzionale alla corte o altrove è trovarsi davanti sul tavolo delle scelte da compiere non soltanto commentare gli errori delle scelte compiute da altri questo secondo me è un bagno di umiltà e anche un esercizio intellettualmente molto più complesso perché vedi una serie di fattori che non puoi trascurare di cui avverti tutta la responsabilità e che quindi ti danno anche un senso di grande prudenza a me piace questa parola come tu sai Marco intesa come capacità di guardare tutte le implicazioni che ogni decisione deve portare con sé grazie grazie davvero e ora aprirei se Marta è d'accordo se hai ancora un pochino di tempo da ricarci pregherei gli studenti e gli studiosi collegati di intervenire avanti se può l'IPA riaccenda il microfono e la telecamera e intervenga buongiorno buongiorno presidente buongiorno a tutti allora io avevo due domande la prima era quanto è stato e quanto sia importante il ruolo della corte costituzionale anche come appunto presidente in una situazione emergenziale dovuta al covid come quella che stiamo affrontando in cui sono stati in cui vi è stata insomma una forte compressione di molti diritti individuali e personali che abbiamo sempre dato per scontato e la seconda è in sentenze come il caso Cappato in cui la corte ha teso a supplire vuoti normativi ampliando la propria funzione creativa mi si perdoni e magari in esattezze linguistiche quanto essa è stata influenzata la corte intendo dalla società e viceversa cioè quanto la corte si è resa interprete delle istanze della società in quel dato momento storico e quanto a sua volta la società sia stata influenzata da questa sentenza e mi riferisco anche ad altre sentenze storiche che sicuramente hanno molto inciso sul pensiero diciamo sul comune sentire della società grazie Marta preferisci rispondere alle singole domande o le raccogliamo come 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 volete magari sentiamone due o tre se no magari vado troppo lunga e non possiamo ascoltare allora avete scritti Mirabella e Caler buongiorno mi sentite sì perfettamente buongiorno a tutti allora io volevo fare una domanda fondamentalmente sull'attività concreta della Corte e mi chiedevo all'interno della decisione di una singola decisione della Corte il singolo giudice quanto è influenzato dall'elemento personale quindi dal proprio vissuto dalle proprie ideologie dal proprio credo e quanto invece il giudice è e deve essere una vera e propria bocca della legge in questo caso una bocca della Costituzione grazie bravo anche per la sinteticità e vediamo leggo Caler ora prenotata messa dal telefono non so se mi vede buongiorno a tutti io avrei due domande una anzi tre una perplessi cioè una una domanda un pochino inadeguata semplicemente mi interessava leggere la sua tesi di laure quindi se era possibile trovare la sua tesi di laure online non vale la pena è ormai ampiamente superata direi non credo che ci sia online forse ne ho una copia io da qualche parte ma direi che sarebbe una perdita di tempo ci sono cose ben più rilevanti su quel tema che sono maturate dopo e invece cosa ritiene rispetto a una Costituzione europea cioè se lei ritiene che ci sia un'esigenza a livello europeo di una Costituzione unica per tutti i Paesi membri o se invece lei ritiene appunto che si debba andare più in una direzione di una Costituzione nazionale e quindi anche il ruolo della Corte in rapporto alla Corte di Giustizia e alla Corte salve salve grazie grazie per l'incontro io sono infiltrata però è stato molto interessante e tra l'altro tutti dovrebbero poter partecipare a incontri del genere perché fa proprio parte del nostro essere cittadini grazie grazie ci sono altri iscritti però io darei intanto risposta se Marta ritiene a queste domande tanto sottolineo lateralmente di chi vuole intervenire ok allora cercherò di essere un po' sintetica in realtà sono tutte domande che potrebbero aprire lunghe riflessioni la Corte diritti il Covid allora la Corte italiana è stata coinvolta poco rispetto ad altre corti costituzionali sul tema della tutela del bilanciamento dei diritti in questo momento di emergenza c'è stato qualche caso per esempio recentemente credo proprio stia per uscire adesso la sentenza sulla prescrizione sulla sospensione della prescrizione dei reati durante il periodo del Covid qualcosa sul carcere sui detenuti ma poche cose per esempio non è stata coinvolta come accaduto per altre corti non so sulla adeguatezza di certe forme di chiusure delle attività economiche oppure la sospensione delle funzioni religiose che sono state oggetto di interventi sia della Corte tedesca che di alcune corti americane eccetera perché la Corte Costituzionale è intervenuta meno di nuovo tenete sempre presente quello che vi ho detto prima non è la Corte a decidere su che cosa fare che cosa non fare risponde intanto quindi non sono state richieste certe cose ma ci sono due grosse caratteristiche della giustizia costituzionale italiana che hanno tenuto la Corte un po' un passo indietro rispetto alle questioni di immediata attualità del Covid uno è che non c'è l'accesso diretto per cui le questioni alla Corte arrivano attraverso i giudici quindi c'è sempre un decalage temporale tra il momento in cui viene approvata una norma e l'intervento della Corte proprio perché c'è un passaggio necessitato la persona che ritiene di aver subito una lesione di un diritto deve rivolgersi a un giudice e eventualmente il giudice poi si rivolge alla Corte Costituzionale per dire se lei avesse preso una multa perché la sua autodichiarazione non era corretta era mendace o non aveva giustificazioni valide per uscire ad esempio nel periodo del lockdown stretto poteva impugnare quella sanzione ed eventualmente poi il giudice andare alla Corte Costituzionale non poteva andare direttamente lì secondo e più rilevante in questo momento è che la Corte italiana è giudice delle leggi non è giudice dei diritti perché si fa questa distinzione o meglio è giudice dei diritti quando attraverso le leggi perché quando le violazioni dei diritti o quello che si suppone siano violazioni dei diritti avvengono attraverso degli atti che non hanno natura di legge i famosi di PCM non hanno natura di legge allora il giudice non è la Corte Costituzionale tant'è che ci sono stati più interventi di giudici amministrativi del Tar che non della Corte Costituzionale perché il giudice quando l'atto in questione non ha forza di legge è fuori dalla competenza della Corte Costituzionale non escludo che arriveranno delle questioni perché comunque anche quei di PCM erano basati inevitabilmente sui decreti legge quindi potrebbe anche essere che la Corte sia poi invitata o in qualche modo coinvolta e lì si tratterà di valutare secondo gli usuali canoni di adeguatezza proporzionalità temporaneità ragionevolezza la compressione dei diritti tenendo conto che torniamo alla prima domanda questi canoni sono dei canoni che sono come delle finestre spalancate sulla realtà quindi ciò che può essere ragionevole in un tempo di emergenza sanitaria estrema può non esserlo in un momento invece di vita ordinaria quindi in qualche modo l'emergenza che non è prevista in Costituzione non c'è una possibilità di sospendere i diritti però entra nell'udizio della Corte attraverso la valutazione contestuale della misura che viene fatta mi spiego? Cappato la società è la legge che guida i cambiamenti sociali o sono i cambiamenti sociali che guidano la legge nasce prima l'uovo prima la gallina questa è una domanda veramente formidabile ovviamente secondo me c'è un'influenza reciproca delle cose non si può negare che il fatto che la legge permetta o non permetta dei cambiamenti incide sulla vita delle persone consente genera diciamo così dei cambiamenti sociali però è anche a mio parere se io dovessi dire quale fattore pesa di più io direi che sono diciamo così i cambiamenti storici e sociali che alla fine poi entrano nelle leggi c'è qualcosa che cambia prima a livello di coscienza sociale che poi a un certo punto arriva anche nelle leggi e incidere nella giurisprudenza della corte costituzionale capire come in che modo che peso hanno questi cambiamenti sociali che misurabilità c'è per capire se la corte veramente sta solo recependo o sta invece spingendo verso un cambiamento sociale è molto difficile in un bello scritto Nicolò Zanon aveva provato a dare che giudice costituzionale aveva provato a dare degli indicatori per esempio diceva il fatto che un caso sia portato tante volte ci siano tante ordinanze di rimessione che insistono su una determinata richiesta il tipo di dibattito che c'è cosa accade in altri paesi sono indicatori ma non è mai una prova certa sicuramente sono dei fatti che incidono pensi al caso del cognome materno dato ai figli dopo otto anni che con otto nove dieci dodici ordinanze non mi ricordo quant'erano ma tantissime continuavano ad arrivare delle richieste alla corte costituzionale a un certo punto la corte che inizialmente diceva qui non c'è una vera propria violazione quindi può fare il legislatore a un certo punto dice beh di fronte a tutta questa insistenza forse è il caso di intervenire cosa è cambiato è cambiato prima la società o cambia prima la legge c'è una reciproca alimentazione delle cose ma a mio parere sono più dei cambiamenti proprio epocali che poi approdano nel tessuto legislativo è un è un è un è un è un è un punto complesso questo del rapporto questo vale anche per il Parlamento ma a maggior ragione per la corte dove tutto questo avviene diciamo così nell'ambito della interpretazione dei principi e non nell'ambito della creazione di nuove leggi no per cui è particolarmente delicato però a mio parere dire che non c'è un'influenza dei cambiamenti culturali sarebbe negare la realtà lo è lo è come in che modo guardi le posso dire solo quest'ultima cosa su questo punto che uno dei motivi per cui la corte poi ha deciso di fare la riforma delle norme integrative e quindi di introdurre la micus curie è stato proprio ciò che è avvenuto nel caso Cappato perché in quel caso alla corte arrivavano degli iscritti di varie associazioni dei più vari orientamenti pro, contro moderatamente a favore cauti eccetera che volevano offrire come delle testimonianze dei materiali di riflessione allora proprio per evitare che questa interpretazione dei cambiamenti sociali sia rimessa totalmente a fattori evanescenti la corte ha ritenuto più utile formalizzarli renderli trasparenti in modo tale che chiunque abbia qualcosa da dire possa esprimersi e far arrivare soprattutto su questo tipo di tematiche la propria opinione alla corte costituzionale quel caso di Cappato è stato proprio aveva messo in modo una dinamica processuale per cui poi è stato avvertito un po' da tutti la necessità di rendere più chiara questo dibattito che c'è nella società civile e farlo portare davanti alla corte il proprio credo le proprie le proprie convinzioni e la corte guardate tutti hanno convinzione addirittura noi abbiamo dei giudici nella corte costituzionale che hanno addirittura un passato di politici sono stati in parlamento eccetera quindi dire che il giudice si spoglia delle sue convinzioni secondo me è molto astratto molto teorico quello che accade questa è una cosa che ho imparato sempre dal nostro amico Marco è che in questi casi funziona molto di più il pensiero per addizione che non per sottrazione cioè è molto più realistico dire che l'imparzialità della corte la la sua non faziosità è frutto del confronto e dell'addizione di tanti punti di vista che non da un atteggiamento secondo me che nessuno pratica nessuno può veramente praticare che è quello di togliersi di dosso il vissuto le sue convinzioni la sua formazione culturale toglierselo non è possibile quello che si può fare è ascoltare profondamente le convinzioni diverse e lasciarsi arricchire lasciarsi moderare lasciarsi cambiare lasciarsi modulare nelle proprie convinzioni nell'ascolto con chi la pensa diversamente per questo reputo che la formazione della corte costituzionale sia così preziosa perché è un collegio molto ampio di ricchissime personalità 15 teste diverse vi assicuro che in molti casi fanno pensare fanno cambiare anche idea a me è capitato in molte occasioni di entrare in camera di consiglio con una convinzione e uscire avendo votato in modo diverso da come avevo pensato che avrei votato anche se mi ero preparata bene proprio perché nella camera di consiglio hai delle illuminazioni non nel senso che ti appare lo spirito santo ma nel senso che qualcuno che ti apre gli occhi su un aspetto che non avevi guardato questo accade e devo dire che i relatori di queste decisioni così difficili cappato e altre sono state sempre persone che anche se avevano la loro convinzione capivano la delicatezza delle cose si facevano carico delle sensibilità di tutti così come emergevano in camera di consiglio infatti è una decisione molto complessa che tiene conto di tanti aspetti diversi non c'è solo un dispositivo ci sono tante parole scritte lì dentro che tengono conto di tante sensibilità diverse ma io le direi si ricordi questa formula cioè all'imparzialità si arriva per addizione non per sottrazione secondo me questo è un grande insegnamento appunto che io ho imparato da un amico comune con Marco la costituzione europea serve una costituzione europea tutto uguale per tutti guardi Chiara l'Europa è nata con un DNA molto evidente che è quello di essere plurale io quando insegno le questioni europee parto sempre dal raffronto tra il motto degli Stati Uniti e il motto europeo il motto degli Stati Uniti che c'è su tutti i dollari è ex pluribus unum invece in Europa il motto è unita nelle diversità l'idea degli Stati Uniti è arrivare a una diciamo così unità di ordinamento che pure è uno Stato federale con tante differenze l'uno dall'altro però diciamo così si parla un'unica lingua in Europa si parlano quante lingue? Un'infinità allora la sfida europea che secondo me è la cosa più affascinante che ci sia è di tenere un'armonia nel rispetto delle varie identità una fatica enorme ma una ricchezza secondo me imparagonabile quindi un'unica costituzione europea ci si è provato a farla ed è stato un momento di grande crisi nel 2004 invece quello che non è mai andato in crisi è il passo dopo passo che nel rispetto di tutte le diversità però non cede mai no? non è e sembra l'Europa sembra sempre sull'orlo di disgregarsi ma invece tiene tiene e tiene proprio perché è ha degli elementi di unità comune ma lascia anche che ognuno faccia la sua strada la prima donna è stata un senso di grandissima io mi sentivo molto diciamo così un simbolo per tante lo avvertivo moltissimo dal punto di vista diciamo così del mio percorso anche dentro la corte non è che ci sia stata tutta questa sorpresa nel senso che era nove anni che ero lì diciamo c'era le condizioni per me è stato un passo dal punto di vista personale quell'ultimo passo è stato un passo naturale però non per questo non mi rendevo conto e non mi rendo conto tuttora che è un passo emblematico è una di quelle storie in cui l'importanza è anche perché tante di voi possano rispecchiarsi in quella esperienza che è accaduta e direi che la cosa secondo me più significativa è proprio quella di essere stata lì in nome e per conto di tutti e di tutte di tutte quelle che hanno posto le basi le premesse perché le donne potessero entrare in certi ambiti c'è tutta la generazione delle donne che hanno preceduto la mia che hanno fatto le loro battaglie per poter entrare in magistratura sapete ragazzi che fino al 1963 la legge vietava le donne di fare i giudici e quindi c'è stato tutto un'enorme storia precedente ma soprattutto diciamo così la responsabilità che io avverto è che sì la prima la prima di tante però tante che dovranno arrivare e che aspetta voi portare avanti quindi il desiderio di potersi diciamo così di poter inaugurare un passaggio che però deve essere un'autostrada poi per tutti gli altri vedo altri iscritti io raccoglierei se siete d'accordo l'ultimo giro di domande se non erro sono Mariconda notari Stefano e Giovaniello iniziamo da Mariconda sembrerebbe essere questo l'ordine delle prenotazioni buongiorno professore buongiorno professoressa due domande molto rapide una riguarda il il protagonismo della corte nel rapporto con le altre corti europee di cui ha parlato le volevo chiedere un chiarimento su questo anche perché da come il professor Ruotolo ci spiegò a il lo tempo del caso Taricco sembrava quasi che l'ordinanza 24 del 2017 paventasse una specie di minaccia a mano armata alla corte di Lussemburgo almeno questa è stata la mia impressione seconda cosa una domanda un po' più personale quanto per un giudice costituzionale può essere frustrante vedere che un appello come quello dell'ordinanza di rinvio del caso Cappato possa rimanere inascoltato dal legislatore anche in relazione alla portata storica del cambiamento che era in atto grazie perfetto notari Stefano io non ho usato l'espressione a mano armata però scherzo infatti è un'impressione personale allora e buongiorno mi vedete ancora no vediamo no vediamo la manina ma non la faccia forse non mi funziona la telecamera allora innanzitutto faccio i miei complimenti alla professoressa Cartabia e volevo dirle che effettivamente come ha detto lei la sua nomina come primo presidente è stata una speranza per tutte noi ragazze e poi volevo chiederle visto che appunto lei ha lavorato alla sentenza Cappato ma nonostante i vari inviti della corte il Parlamento non ha ancora legiferato volevo chiederle secondo lei quali sono gli orizzonti e se l'Italia potrà mai arrivare a una situazione di totale libertà di questi temi come l'Olanda o il Belgio e ora c'è Giovaniello salve buongiorno io purtroppo ho sempre il problema che ho avuto anche ieri con il dottor Barca che la telecamera non funziona quindi mi scuso dovrò fare la domanda solamente attraverso il microfono prego io diciamo la mia domanda si impernia più sui concetti della dissenting opinion e dell'esigenza di preservare la collegialità ne abbiamo parlato a lezione con il professore quando abbiamo introdotto il capitolo sulla corte costituzionale sul funzionamento della corte io volevo chiederle nello specifico quanto è importante preservare la collegialità e quanto cosa praticamente si fa per preservarla e a questo discorso volevo collegare la domanda per la quale perché la dissenting opinion va così contro il concetto di collegialità e perché non può essere coniugata con questa idea grazie mille allora protagonismo e controlimiti certo la corte costituzionale in quel caso nell'ordinanza 24 ha fatto intendere che il problema era molto serio per l'ordinamento italiano e che il riferimento alla dottrina dei controlimiti dei principi inviolabili eccetera avrebbe messo in difficoltà la corte si metteva in campo quella che diciamo così molti hanno chiamato l'arma nucleare cioè quella di dire la corte dichiara a un certo punto che non può applicare determinate norme dell'ordinamento europeo in Italia questo sarebbe stato un gesto di rottura enorme però se lei guarda appunto bisogna sempre guardare il che cosa e il come il che cosa era effettivamente l'arma nucleare però l'arma nucleare è stata diciamo così offerta con una via di uscita per la corte di giustizia il fatto di rimandare un rinvio pregiudiziale dopo che già tra l'altro la corte si era pronunciata è stata la possibilità di dire prova a vedere se ci puoi ripensare ancora se non c'è un modo di accomodare invece le esigenze del punire diciamo così le frodi finanziarie dell'Unione Europea con le esigenze italiane che sono di questa certezza in materia di prescrizione principi fondamentali in materia penale quindi è vero che l'oggetto era esplosivo però ci ha dato anche modo di disinnescarla questa bomba nucleare e questo secondo me è proprio il come che ha reso così diverso l'intervento della corte costituzionale italiana rispetto poi a quella tedesca che invece sul quantitative easing è stata obiettivamente dirompente la frustrazione dei giudici quando non vengono ascoltati dal legislatore la frustrazione è la frustrazione di tutte le volte che si vede qualcosa che va storto che è ingiusto che potrebbe andare meglio e che si perde l'occasione per poter rimediare soprattutto nei confronti delle persone coinvolte quindi si può capire tutto perché sono queste tematiche e questo vale anche per la domanda di notari Stefano sono tematiche che per un parlamentare per i politici sono tossiche perché perdi consensi da una parte li acquisisci dall'altra sono questioni talmente controverse che si può anche capire la ragione per cui l'istituzione politica che è preoccupata del consenso cosa che invece i giudici un problema che non hanno non vogliono raccogliere questo spunto è un peccato perché sicuramente il legislatore avrebbe tuttora la possibilità di scrivere con più ponderazione una norma che può mettere in campo procedure garanzie cautele mentre la corte può solo dire fin qui vale il diritto penale fin qua non vale più ma non può creare tutta una serie di strumenti di accompagnamento che invece in questi casi sarebbero altamente importanti perché quella sentenza dice due cose dice che in certi casi non ha senso continuare a punire l'aiuto al suicidio ma dice anche che bisogna essere molto attenti perché il rischio di prevaricare su persone in condizioni di grande vulnerabilità è molto alto e infatti dice non è che qualunque forma di aiuto al suicidio è liberalizzata proprio perché è il rischio di prendere una persona in un momento di debolezza di anzianità di estrema come dire depressione legata alla malattia e indurla a un passo che invece non dovrebbe fare non vorrebbe in fondo fare il rischio altissimo quindi la corte se leggete l'intera motivazione è molto equilibrata ma quell'equilibrio dovrebbe tradursi in strumenti istituti procedure che la corte non ha gli strumenti di fare la famosa gomma è la famosa matita che non è nelle nostre mani la dissenting opinion e la collegialità allora diciamo che sicuramente la corte ha questo grande grandissimo pregio della collegialità che arricchisce il pensiero per addizione è un pensiero che è molto favorito dal fatto di essere un organo che deve trovare un punto di sintesi più o meno ampiamente condiviso da parte di tutto il collegio non sono sicura che la presenza della dissenting opinion dove c'è in tutti gli ordinamenti comporti necessariamente il sacrificio della collegialità dipende c'è un uso molto diverso per esempio in Germania la dissenting opinion c'è ma viene utilizzata pochissimo proprio numeri molto bassi mentre negli Stati Uniti addirittura si vota prima di deliberare insieme i giudici dicono il loro pensiero prima ancora di aver ascoltato quello degli altri quindi il numero di dissenting è molto più alto io credo da quello che sento avverto moltissimo questa esigenza sia da parte soprattutto delle giovani generazioni ma anche un po' dell'opinione pubblica forse anche di qualche giudice di riconsiderare questa scelta del nostro ordinamento sento che è un tema ricorrente che viene avvertito sempre di più si potrebbe pensare a delle forme molto diciamo così di riaprire un dibattito e pensare a un modo un po' ponderato di usare queste dissenting opinion qualcuno diceva in un dibattito per esempio incominciare a dire che ci può essere solo un dissenting opinion dei giudici in minoranza anziché ognuno dire la sua voce e fare in modo che quindi questo dissenso non diventi una frammentazione totale della Corte ma che sia una via di uscita solo quando il caso è un caso particolarmente rilevante che qualcuno avverte la necessità di dover lasciare per iscritto il suo dissenso io devo dire che non so a quante migliaia di decisioni ho partecipato nei miei nove anni forse il dissenso lo avrei scritto veramente soltanto in meno di dieci questioni perché il modo di arrivare a dei punti di mediazione più convincenti c'è non tutti i casi meritano questo in qualche caso se devo dirle la verità mi sarebbe proprio potuto poter raccontare la mia narrazione dei fatti così come la vedevo e questo forse avrebbe anche potuto arricchire il dibattito è un problema di moderazione dell'uso che però non è facile pensare è più un costume i tedeschi sono così disciplinati fra di loro che hanno un'automoderazione insita altrove ci sono dei casi per esempio nelle corti europee ci sono dei giudici che sono veramente molto esuberanti per cui a priori scrivono il loro dissenso su qualunque cosa questo diventa un pochino dispersivo credo per la corte stessa grazie io voglio con questo incontro si chiude il corso di quest'anno voglio dire tre grazie il primo agli studenti anche le domande di oggi dimostrano l'attenzione con la quale hanno seguito il corso è stato un corso faticoso per loro e per me per me è stato il primo anno in cui mi rivolgeva ad uno schermo spesso per ragioni di rete quasi sempre uno schermo che rifletteva il mio viso parlavo da solo sono riuscito a fare 72 ore non una di meno di didattica certe volte appunto senza sconti per così dire anche le domande di oggi Marta non sono domande costruite si sentiva concordate perché non mi piace che questo avvenga deve essere un momento anche di crescita per loro aver preso ieri e oggi devo dire in particolare il coraggio tra virgolette di accendere il microfono e la telecamera e porre domande così interessanti dimostrano evidentemente che si può confidare nel futuro nei nostri giovani mi dispiace molto non aver appunto potuto fare una conoscenza diretta con loro probabilmente ancora negli esami saremmo costretti a questa modalità a distanza il rettore dice di no vedremo vediamo vediamo cosa si riuscirà a fare però appunto voglio dire anzitutto grazie a loro perché hanno seguito con interesse lo dimostrano le domande di ieri e di oggi e quindi sono davvero felice di questo il secondo grazie va al magnifico rettore magnifico non solo perché il rettore lo ha dimostrato anche oggi e il terzo va ovviamente a Marta a Cartabia io penso che l'incontro di oggi rimarrà nei ricordi tra i ricordi più belli del percorso accademico dei nostri studenti quando non saranno più studenti quando si avvieranno al mondo del lavoro a raccogliere i frutti degli sforzi di questi anni e sono sicuro che questa giornata rimarrà nei vostri ricordi rimarrà senz'altro nei miei e quindi chiudo augurando a tutte e a tutti in vista delle prossime festività facendo i migliori auguri di nuovo ringraziando Marta Cartabia non so se Luca Pietro Marchi vuole chiudere il nostro rettore davvero grazie tanto per ringraziare tutti Marco l'hai già fatto benissimo a tutti gli studenti una piccola lezione di spirito francese quella che ha usato la professoressa Cartabia è una distinzione tra i due modi di approcciare le cose del mondo formulata a metà seicento da Pascal ovvero l'esprit de geometrie da una parte lo spirito di geometria la razionalità e di là l'esprit de finesse cioè la sensibilità l'intuito tutto quello che serve a stemperare diciamo le spigolosità dello spirito di geometria è bello che l'abbia detto una giurista perché sono proprio le due virtù che coniugate danno il perfetto uomo di legge uomo per l'ultima a questo punto dovremmo veramente dire guardando anche le nostre studentesse la perfetta donna di legge grazie grazie tanti auguri a tutti soprattutto a voi ragazzi e non fatevi scoraggiare da questa situazione avete dei maestri grandissimi dei punti di riferimento che sapranno come il maestro Germain trarre da voi potenziali premi Nobel auguri grazie mille arrivederci buone feste auguri a tutti speriamo davvero di farli in presenza almeno le istruzioni sono quelle poi chi vuole può chiedere di farlo a distanza ma la norma e speriamo di poterla mantenere è quella di fare gli esami e gli iscritti eventualmente e gli orali in presenza così almeno ci vediamo ci conosciamo dopo esserci tanto sentiti allora grazie a tutti a presto a presto Grazie a tutti